mi senti colpa che uno dice no, non ha fatto niente che uno dice no, poi non si vede niente, non si prende i punti migliori no, basta me no, è per quello che te l'ho data a te vai zio vai salvo vai zio siamo qua, salvo il tifo dai vai zio vai salvo adesso chiamo qualcuno addetto al pistaggio a me la scontanma 80 più si preparano 2,6 cambia forza salvo vai zio forza salvo dai vincere la donna città ancora rosso dai salvo pulito stai chiuso chiuso salvo o zi stai chiuso o zi cosa che mi hai detto prima? forza salvo forza salvo gira zio, gira dai salvo no, dai l'occhi alza le gambe salvo frontale frontale vai sti frontali salvo vai sti frontali salvo su salvo dai come faccio per metterlo dal cellulare sul computer? mi stai nel capo? è un progetto eh? ok sul computer dai salvo dai salvo dai salvo dai alza le gambe salvo boxa salvo boxa non forza che ti scoli oh cazzo tira fuori quello che fa boxa salvo no a rio 4 si preparano i viteritti Andrea Navadani dicevo ma quello che cappelli c'è tutto stop ok riparmi 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 si boxa salvo boxa gira intorno zio esci salvo boxa le cose diverse boxa salvo boxa non parla queste cose stop tempo tempo oh calma no dai beh non c'è non c'è boxa salvo oh zio non piccarlo forte anche qui si cazzo ti ammazza poveria è la verità è la verità cittorello lo so vai salvo vai zi vai salvo vai salvo vai salvo io questo non lo so vai salvo ma no braccia voloso hai voglia di ecco il braccia voloso ecco perchè devo farlo io il firmato qua e vabbè ecco il nipote faremo l'album l'amica dell'ipote ecco come l'amica dell'ipote che cazzo che cazzo ecco l'avversario dello zio l'amico dell'avversario l'aracchio di l'aracchio di vitale l'aracchio di vitale Luca è scaricato è scaricato l'aracchio di grazie poi è morto vai in vai salvo vai salvo vai salvo ma no guarda che ne fa un po' ma resiste a tutto questa macchina salva senza stilaterale vai salvo mossa salvo mossa mossa quando scende bossa quando scende collaterale quando scende questo laterale bossa vai bene salvo vai bene tranquillo tranquillo salvo vai benissimo dai su salvo quando scende con sta gamba bossa si preparano ad inolfi Luca e Rolando Luigi vai salvo vai salvo vai salvo ma c'è una foto dove salvo il vitro certo vai salvo perfetto Luca ho fatto una foto dove il salvo è così vai salvo è così uno è così allora vai salvo bossa bossa salvo togeh parla grande parla in cerja parla parla vale i grave salvo esci però non puntare tutto sulla bocca sulla guardia Alessandro non sei mossa vale sulla guardia sempre vai salvo dai gira gira non ti prendere calci gira arbitro di merda togli delle palle vai ascolta anche lui ascolta anche lui si scatica ne farà no? Ale Ale chiudi tu che è finita dai chiudi tu bravissimo solo che lui è nei pressi dell'area se lo avessero ritrovato sono pregati di restituirlo all'area 8 bravissimo bravissimo e davanti e davanti bravi bravo bravo zio scusa Luca meglio se la cancello questa vero? la lascio per lealità lealtà come si dice lealtà Luca l'ascio l'ascio è l'ascio l'ascio Grazie a tutti.